musica 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 allora il torneo si terrà sabato 16 marzo quindi sto facendo questo video pomeriggio potete vedere le 3.51 di sabato 9 marzo penso di caricarlo questa sera e di montarlo sempre stasera perchè dopo vado a casa di salco 14 comunque il torneo si terrà sabato 16 marzo alle 8 e mezza se ci saranno problemi contattatemi per messaggio privato su youtube o per skype come sempre vi vi metterò nella descrizione il mio nome per aggiungermi su Skype e magari scrivetemi, no 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 basta così, stavo per dire una cretinata mi sono fermato in tempo comunque e sì quindi potete contattarmi privatamente se ci sono problemi per sabato lo faremo probabilmente di sera l'ora è sempre 8 e mezza di sicuro se ci saranno problemi, ma l'ideale sarebbe farlo sabato registrerò con Fraps, visto che Dictory non riesco a registrare con Dictory in settimana caricherò un video di un gameplay su MicroVolt registrato con Fraps, per darvi un'idea di come verrà fuori, sia il video che l'audio poi, ah sì cosa molto importante da fare commentare, scrivere come commento per i partecipanti, solo partecipo l'unico commento l'unico tipo di commento che voglio vedere sul su questo video è partecipo perché se no altrimenti vado in confusione con i partecipanti sono già andato in confusione perché ho rifatto questo video appunto per questo perché mi pare di dimenticare qualche partecipante comunque ho fatto una lista allora, ho fatto una lista dei partecipanti del torneo che vi metto al centro e finora siamo in 9 siamo io sono con 14 Angel TJ1210 che era il mio amico il quarto degli amici che già partecipavamo dal quinto vlog Davidman DarkRaptor altri miei due amici Pierluigi9 che ho conosciuto proprio grazie al quinto vlog che farà partecipare il suo fratello e mi ha fornito anche un nickname di suo fratello Zombie71 una cosa Pierluigi ha come si può dire la possibilità di scrivere due partecipi due volte partecipi o Cindy sia per lui che per il suo fratello altrimenti vado in confusione ragazzi devo contare i partecipi devo contarli uno a uno e ogni volta che vedrò un commento diverso da un partecipo tranne nel suo caso tranne nel caso di Pierluigi lo rimuoverò e Minecraft Italia46 un altro mio amico quindi siamo in 9 tranquilli che metterò il link di Super Meat Boy sì mi è venuta la voce un po' ok siamo in 9 link di Super Meat Boy mi raccomando commentate con un partecipo torneo sabato sabato 16 marzo alle 8 e mezza avete una settimana per allenarvi se volete allenarvi con me magari scrivetemi per Skype facciamo una qualche partita anche se sono molto impegnato con i video e tutto il resto in cosa importante da fare ve lo ripeto giocare con le armi standard e naturalmente ma non l'ho detto nel vlog perché era ovvio senza trucchi senza velocità senza salto lungo il salto in alto scusate senza hack roba così per qualunque problema contattatemi per Skype per messaggio provato su YouTube come volete mi raccomando se volete passare dalla mia pagina Facebook che magari potrei che so scrivere qualcosa qualche post in cui potrei magari rimandare il torneo per qualche problema fare dei disguidi capito quindi ve lo consiglio di mettere mi piace perché magari l'ultimo se lo scrivo su Skype poca gente mi sa che mi lo vede il cambiamento su Facebook è molto meglio magari guardateci ogni tanto non mi pare di avere nient'altro da aggiungere ok i partecipanti siamo in 9 a posto quindi per questo video è tutto ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ragazzi